ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario glute lac informazioni commerciali titolare che vita concessionario elanco italia spa confezioni glute lac 12 blister da 8 flaconi da 50 ml cad formulazione glucosio acetato di sodio cloruro di sodio cloruro di potassio aromi naturali e conservanti additivi ce e indicazioni mangime complementare per vitelli glute lac può essere utilizzato come coadiuvante al ripristino dell'equilibrio elettrolitico in particolari fasi di vita dell'animale posologia istruzioni per un uso corretto per aprire il flacone ruotare la parte superiore e staccarla aggiungere glutella calate o ai suoi succedanei nella quantità di 50 ml ogni due litri una o due volte al giorno fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato grazie per avermi seguito